Nella nostra rubrica EuroChina parliamo dell'importante accordo che OnlyItalia, la rete di imprese italiane fondata nel 2011 da Irene Pivetti, ha siglato con Balletown, del colosso cinese CIG, per l'apertura di una catena di department store made in Italy, nei 20 shopping village che Balletown realizzerà in Cina entro il 2017. Sentiamo Antonella Piterini. Presidente Pivetti, da oggi OnlyItalia diventa effettivamente una società internazionale. Cosa è successo oggi? Oggi festeggiamo un evento molto importante, la firma di questo importante accordo tra OnlyItalia e il gruppo Balletown. Balletown rappresenta ad oggi 21 città che sono state create in Cina, città satellite, quartieri estremamente innovativi, vicino alle città di seconda e terza fascia dove la gente ha un grande desiderio di migliorare il proprio standard di vita. OnlyItalia è il partner che Balletown cercava, cioè una piattaforma che porta imprese piccole e medie ma ormai anche grandi, italiane, portatrici di grande qualità che vogliono entrare nel mercato cinese e insieme ai prodotti di qualità, tutti i prodotti dalla moda all'arredo al cibo al vino, anche la cultura, perché la cultura non è soltanto la perla più importante della nostra corona, la gemma della corona, ma è anche un grande valore economico che noi dobbiamo imparare a fare fruttare e che tra l'altro gli stranieri apprezzano moltissimo, loro vogliono i nostri prodotti della nostra qualità, ma anche la nostra cultura, vogliono apprendere le radici della bellezza del nostro export. Quindi OnlyItalia che mette insieme i prodotti e la cultura è il partner che Balletown cercava. Oggi è il momento in cui si sigla questo accordo, un primo step molto importante, ma comunque primo. Di fronte a noi c'è un percorso molto lungo e molto affascinante. Come possono fare le aziende che vogliono entrare nella rete di OnlyItalia? Cosa devono fare come primo passo? Io consiglio a tutti di digitare www.only-italia.it, lì trovate tutte le informazioni, naturalmente è riferimento anche telefonico per intenderci, alla sede di OnlyItalia dove l'ufficio commerciale può spiegarvi come si fa ed è molto semplice ad entrare in questa straordinaria, unica vorrei dire, rete d'impresa e da subito si incomincia a fornire le immagini, si entra nel catalogo e quello che importa in questo momento non così florido per la nostra economia si incomincia a vendere.